Musica Rimessa in attacco per la Dinamo Dopo il timeout Bencius Spara subito Da tre Cruzini ribalta per Bencius Che poi scarica nell'angolo per Dauma La difesa si è già risistemata In una maniera incredibile Poi Bencius In attacco il banco di Sardegna Bencius Nella seconda giornata In casa contro Verona Bencius Uno contro uno Contro Barnell Tira buttandosi indietro Con il fadeaway Stasera Robinson Bencius Dimitro Long Odieno se poi avvio Kanagenin Odbrani In una Traordinaria fin qui annata Per Abdurrahman Concesso qui In Italia 11 point win 87-76 Kravitz Kravitz got 19 Dao 7 secondi per cospire qualcosa Va in punta Lo fa Cercando Bencius Trovandolo Cosa Fuori per Robinson Le manone di Harper Davanti ai suoi occhi Lo scarico provato Dai Mantas Bencius Le nostre immagini 7 decimi sul cronometro Bencius Riesce comunque Prendere il tiro E a me Cercando Le nostre secondi 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 Cercando Kravitz Robinson 8 secondi Per l'attacco Della Dynamo Bencius Dall'arco Canestro Stipens a bloccare Bencius Ad attaccare Il close out Di Tessitori Runner I 60 secondi Della il secondo quarto Che iniziano ora Pallone di Diop Per l'uscita di Bencius Da tre punti Bisconti Si va fuori Dall'arco Da Gentile Mezzangolo per Bencius Secondo Shooter Really well To Riggle free of Diaz Good spot in the corner And a great finish Di e di braccia Recuperare questo Parolo Per poter segnare Big and pop Di Bencius Che sia Per a Gentile Si va a chiudere In un imbuto Poi c'è l'ottimo Inserimento di Bencius Vinta L'ultimo Omos Odiop Vrisca De Kigen Appare come una rebound Che è o Bencius All'iosher Scook Quata Stevens Rolazak Do Kraya Ove Do Bencius Giatris Fato Valio A mantenere il campo Poi scarica per Robinson Tiro in controtempo Sbagliato Bencius Sul rimbalzo Bote in Da tre Dao Contro Thompson Bencius Completamente Chiesa Xanah O Bencius Oh nice pass Bencius Bencius All'Isso Bencius Si presenta Nella Metà campo D'attacco La finta di Bencius Gran palla Dentro Per Dawe Bencius buon pass, Onwaku con il layup qui da Pesaro nuovamente un po' in difficoltà perso totalmente là sotto Dawa un ruolo, un grande ruolo e ora è in mezzo di uno Benjus, un bellissimo pass pass l'NBA metti in tetraieti, tu pari uscì questi postoni essere lì Benjus che va in palla, ancora azione per Tortona ora bisogna affrettare le operazioni se si vuole cercare di restare in vita Benjus invece recupera il pallone si ferma dall'altra parte e spara scendersi anche lui, c'è un mismatch con Dawa la palla allargata, male capisce appunto Benjus, non arriva il pallone acconti, Benjus ha un po' di spazio attacca Grazulis, si ferma Contra na drogoi strani, call Nema Njegoo, Koša obesebede offaz in una scocca Solid hit that three and some good defense Illic probably a little bit out of his comfort ma in una scocca che è un po' di spazio che è un po' di spazio che è un po' di spazio